E chi decide se le aziende rispettano le regole o no? Sono le sentenze che passano in giudicato, non i troll di un'azienda privata, la Casa Legge e Associati di Milano. Sono le sentenze in questo Paese che decidono chi è colpevole e chi no. Questo prescrive la Costituzione, la Costituzione più bella del mondo, quella che tanti difendono senza averla neanche letta.